Benvenuti su ricette della nonna. Oggi prepariamo le lasagne con i semi di papavero. Ingredienti sono lasagne, zucchero, burro, semi di papavero, olio extravergine di oliva, sale e un mortaio. Per prima cosa ho messo sul fuoco l'acqua per bollire le lasagne e oltre al sale ho versato un po' di olio extravergine d'oliva per evitare che si attacchino fra di loro mentre cuociono. Nel frattempo mettiamo lo zucchero e i semi di papavero nel mortaio e li pestiamo leggermente. A questo punto versiamo il burro in un pentolino e lo lasciamo fondere a fuoco basso. Nel frattempo l'acqua per le lasagne è pronta e quindi possiamo versarci le lasagne. Cerchiamo di metterle separatamente in modo che cuociano uniformemente. Quando il burro si è fuso versiamo il nostro composto di zucchero e semi di papavero e lasciamo cuocere finché lo zucchero si è tutto ben sciolto. Il condimento è pronto quindi spegniamo il fuoco e le lasagne anche le andiamo a scolare. Le lasagne sono scolate bene e a questo punto non ci resta che impiattare. Mettiamo prima le lasagne nel piatto e le colpiamo con i semi di papavero e il burro. A questo punto serviamo in tavola e buon appetito! Alla prossima ricetta su Ricette della Nonna con Anna Rosa